Io credo che sia successo quello che è fisiologico che accada sempre, accade a me da attore, diciamo quando lavoro su uno spettacolo, mi è già accaduto nelle cose protoregistiche che ho fatto e seguito, ovvero che tu parti con una dote di partenza di punti di vista, materiale di riflessione e poi quello che succede nel periodo di prova è che tutto quanto questo materiale viene negoziato, viene negoziato con i punti di vista delle persone che sono coinvolte, da in primis ovviamente gli attori del cast e dello spettacolo a tutti coloro che fanno parte della compagnia da un punto di vista creativo, insomma, chi fa le luci, chi si occupa del suono, chi si occupa di costruire le scenografie e dell'allestimento dei costumi, in generale del look dello spettacolo. Attraverso l'integrazione di tutti quanti questi contributi a partire da un'idea di partenza che credo sia responsabilità di un regista consegnare nella maniera più chiara possibile. Poi lo stesso punto di vista registico pre-prove in qualche modo non dico che muti completamente disegno, ma subisce degli adeguamenti di rotta perché se è ben necessario avere chiaro che cosa si voglia dire attraverso un testo, una messa in scena, che cosa si voglia fare e sanno altresì essere aperti all'ingresso di contributi che possono, non dico sconvolgere e capovolgere il senso dell'operazione, ma far fare al regista stesso delle scoperte. Io cerco di mettermi in quest'ottica che è mutatis mutandis, diciamo così, l'ottica che abbraccio da attore, cioè dall'inizio delle prove alla fine io mi auguro sempre di avere scoperto qualcosa di nuovo, di avere capito non tutto, perché poi se no durante le repliche cosa fai, ma più cose rispetto a quelle che sapevo o avevo capito o credevo di aver capito in precedenza, attraverso l'incontro, il contributo degli altri. Fare uno spettacolo significa in prima istanza questo, aprirsi a una possibilità di cambiamento delle proprie idee, aprirsi a una dialettica e a un incontro vero con gli altri. Io ho cercato di mantenere questo schema dialogico il più permeabile possibile. Poi è vero che la responsabilità della regia credo oggi sia quella di disciplinare queste istanze in un percorso coerente, però di disciplinarle a partire dalla maggior libertà possibile lasciata a chiunque faccia parte del processo creativo. Quindi ecco, tutti quanti libri letti in vista di questo spettacolo, tutte quante le considerazioni fatte, di sicuro oggi non le ripenso così come le avevo pensate, inquadrate all'inizio, prima ancora di cominciare le prove. È bella anche la sensazione che a un certo punto senti lo spettacolo scapparti di mano, perché non è più solo tuo. Cerco anche di non reagire a questa sensazione attraverso la prepotenza dell'istanza del ritorno all'ordine, si fa come dico io, perché non credo che la strategia oggi debba far questo. Cerco piuttosto di disciplinare per l'appunto l'ingresso di contributi altri, perché è importante che uno spettacolo che nasce sia un po' un orizzonte aperto. Poi dove si va, la rotta che si segue, uno la marca all'inizio e poi deve rinegoziarla, riasestarla via via, ma il punto d'arrivo è ignoto, perché ha fatto appunto dall'incontro con tutti i coinvolti.